In vendita locale commerciale a Gattinara, situato in posizione privilegiata fronte strada, con alto flusso di passaggio. Posto al piano terra, l'immobile si sviluppa su una superficie totale di circa 130 metri quadrati, e si compone di tre ampi locali. Un'area principale adibita a spazio espositivo, con annessi ufficio e bagno, l'ambiente vanta uno stato di conservazione idoneo e gode di una buona luminosità, grazie alla presenza di tre vetrine che lo rendono visibile e accattivante per i passanti. Inoltre, è dotato di riscaldamento, climatizzazione e sistema di allarme, garantendo così un ambiente confortevole e sicuro per lavorare. A completare l'offerta Ideale per attività commerciali di ogni tipo. Questo locale rappresenta un'opportunità per investitori, o imprenditori che desiderano ampliare la propria attività. Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail, siamo sempre a tua disposizione.